Sguardo determinato, posizione di guardia, pugni assestati con decisioni. Sono le anziane signore che ogni settimana si ritrovano a decine in una palestra alla periferia di Johannesburg. Alcune lo fanno per tenersi in forma, per muoversi, per contrastare l'invecchiamento con della sana attività fisica. Ma altre partecipano a corsi gratuita di autodifesa, che mettono assieme colpi di box, mosse di arti marziali e semplici tecniche di lotta. Obiettivo sentirsi più sicure o quantomeno provare a reagire alla violenza imperante nel paese. Il Sudafrica è la nazione con il più alto numero di casi di violenza sulle donne a livello mondiale. Se ne registra mediamente uno ogni sei ore. Gli stupri e le violenze sono frutto del degrado, della povertà, dell'alcolismo e di una concezione maschilista del mondo che relega molte donne ai margini della vita sociale. Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale, in Sudafrica il 40% degli uomini ha picchiato la propria compagna e un uomo su quattro ha commesso un reato sessuale. Anche se solo una minima percentuale sporge denuncia, la violenza contro le donne è un fenomeno in continua crescita e addirittura un quarto delle donne afferma di aver subito molestie o percorse nella propria vita. E ciò che più impressione è che circa il 10% dei casi riguardano donne al di sopra dei 60 anni, dati i scioccanti con cui le anziane donne di Johannesburg hanno imparato a convivere. Cosicché le attempate allievi di Mthusi Mafosa, ex culturista, oggi istruttori di difesa personale, hanno un'età che varia tra i 60 e i 90 anni e in comune hanno la voglia di far valere i propri diritti, quelle buone o quelle cattive. Alleno gratuitamente perché ce n'è un grande bisogno, non farei mai pagare a queste donne anziane, ma molti giovani fanno donazioni che permettono di tenere viva la palestra e offrire lezioni gratuite due volte alla settimana. Alcune di loro hanno problemi di artrite, ipertensione, malattie legate all'età, ma la loro forza d'animo, la loro voglia di restare in forma è impressionante. E l'attività fisica fa bene, fa bene al cuore, all'apparato cardiovascolare e già va anche alla salute mentale. Sono venuta qui perché desidero sentirmi in forma e sentirmi più sicura. Prima avevo una terribile pressione alta, ora mi sento a posto e non ho paura di nulla. Sono una volontaria, mi piace aiutare gli anziani, sono stata cresciuta anche io da una gogo, una nonna, che mi ha protetto, mi ha insegnato molto, ora voglio restituire un po' di quello che ho ricevuto. Grazie a tutti.